Corecom in Tour, il Comitato regionale per le comunicazioni guidato dal presidente Marco Meacci, ha fatto tappa a Lucca, Palazzo Ducale, nell'ambito del viaggio in Toscana per far conoscere le proprie attività a cittadini ed imprese. Il Corecom, come è noto, vigila sulla comunicazione politica delle emittenti locali, in particolare nei periodi di campagna elettorale, per il rispetto della Parcondicio e promuove il cosiddetto patentino digitale per responsabilizzare i più giovani sulla navigazione in rete e sull'utilizzo dei social. L'altro grande campo di attività del Comitato è la gestione delle conciliazioni in caso di controversia tra utenti e gestori telefonici. Sappiamo che ciascuno di noi spesso si trova in difficoltà in questa situazione, per cui il Corecom istituzionalmente come funzione delegata da Agicom svolge questa funzione a titolo completamente gratuito, dando risposte positive a centinaia, a migliaia di persone che ogni anno si rivolgono ai nostri uffici e che appunto trovano questo ausilio e questa collaborazione. Un servizio sempre più importante anche in Toscana. Nell'ultimo anno sono state ben 100.000 le domande di conciliazione evase dal Corecom nella nostra regione.